e silvio berlusconi matteo renzi e luigi di maio vi ricordate cari amici che luigi berlusconi è sceso in campo nel 2004 ed è rimasto in campo per tanto tempo e vi ricordate che il popolo italiano era tutto contro silvio berlusconi vi ricordate beh poi è venuto il tempio di matteo renzi e voi lo sapete bene che adesso tutto il popolo italiano è contro matteo renzi e poi verrà il tempo di luigi di maio e vedrete che tutto il popolo italiano sarà contro contro il povero luigi di maio infatti io a luigi di maio ho suggerito di non andarci a palazzo ghici perché luigi di maio deve fare tesoro delle esperienze di silvio berlusconi e di matteo renzi perché prima il popolo sovrano era tutto 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 contro silvio berlusconi ora il popolo sovrano è tutto 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 contro matteo renzi un domani caso mai luigi di maio dovesse andare a palazzo ghici il popolo sovrano sarà tutto contro luigi di maio anche se luigi di maio è il politico più buono del mondo questo ve lo dice serafino massoni che è un filosofo capito non solo serafino massoni un filosofo ma serafino massoni anche l'autore di questa pregiata opera che ora tradotta in lingua inglese sta tutto il mondo sulla grande piattaforma della mela la apple la apple ok cari amici il patriarcato è fatto così a tutti tanti cari saluti da serafino